L'Adiom nella storia e sotto i portici del borgo sono stati realizzati un campo di tiro con l'arco e un campo d'arme dove all'interno di esso sono stati proposti diversi duelli storici ed altre esibizioni come danze barocche e cerimoniali napoleonici. In mattinata si è tenuto il torneo di tiro con l'arco storico del Canavese intitolato in memoria di Marco Caffasso e Marco Ruzzi. Nel pomeriggio i figuranti hanno sfilato in corteo per il paese per poi tornare in piazza Castello per l'onda finale di esibizioni e relativi cerimoniali di chiusura dell'evento. Gli alieni hanno neppure, non hanno neppure. ... ... ... ... Grazie un segno! Vecite! Grazie! 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 Chinisi! Yey! Mim région! ... Vorteil da situazione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.